buongiorno raga benvenuti nel mio canale youtube io mi chiamo vittorius mark e oggi vi insegnerò a fare la carbonara 420 una ricetta mia una ricetta mia personale ideata per veri intenditori raga mi piace da dio mangiare raga cioè faccio schifo mi piace troppo mangiare mi piace viaggiare e raga faccio schifo non sto più nelle bag raga andiamo in cucina seguitemi ragazzi per iniziare ci servirà della pancetta fumicata e del guanciale una seconda ci servono tre uova che poi andremo a utilizzare belle queste uova come girano e infine il grana che è un ingrediente importantissimo e il pepe nero se avete il pepe questo serve possiamo iniziare ad accendere l'acqua ok possiamo prendere una manciata di sale grosso metteremo un goccio d'olio ok prima cosa mettiamo la pancetta faccio schifo ok 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 Sì Su Bibi Yeah Sì Mi sono riuscito tra il danno dai Sessione di terzo grado Sfiga Ok raga è arrivato a questo punto possiamo spegnere la fancetta e farla riposare vedete visto? è un bel colorino adesso spegniamo e lo mettiamo qua da parte uno intero ok due rossi sbattite leggermente mettete poi parmesan e alla fine un po' di pepe nero pepe nero ok e abbiamo la crema adesso adesso raga dopo che abbiamo mischiato per bene la pencola la pasta con la pancetta andremo a mettere tutto quanto in questa qua e raga ora gentilmente mischiamo il tutto raga sto già male porco due la troia raga la troia mmm yeah troppo sugo bitch dato che io sono negro e mi piace sono una persona dare dei sapori forti e esperienze forti faccio una junta di di pepe e dato che ci piace il grano mettiamo anche il grana oh si ora andremo a impiattare impiattare ve lo faccio vedere a voi come si impiatta perchè io raga ve lo dico me lo mangio dalla pentola direttamente oh non si impiatta niente che cazzo chi c'ha voglia di pulire i piatti raga yeah oh ricciolo uuuh ricciolo raga raga tanta roba raga fa paura yeah bella rega fatemi sapere com'è questa ricetta e se vi è piaciuto il video ragazzi lasciate un mi piace e seguitemi su instagram victoriosmark e sghere uuuuh